Innanzitutto è importante presentare questa tappa a livello nazionale comunque perché è una prestazione a livello nazionale, arriverà comunque per Fossano ma soprattutto bisogna ricalcare l'importanza della tappa del 6 maggio che arriverà la tappa del Giro d'Italia, chiaramente il ciclismo è uno sport mediatico dove si può andare a vedere il territorio, il comune, i castelli grazie alle riprese del moto e degli elicotteri quindi è uno sport che si vede in 190 paesi al mondo vi dico sempre che il Giro d'Italia oltre ad essere un grande evento sportivo è una festa nazionale, tutti i bambini sono sulle strade a tifare, a gridare, a vedere la carovana rosa che passa quindi per Fossano avere soprattutto un arrivo di tappa, una tappa del Giro d'Italia inizio giro, quindi ci sarà tanta gente, tanta voglia di Giro d'Italia sarà una grande festa, semplicemente una festa sportiva che però colorerà di rosa Fossano quindi mi ricordo sempre molto bene ogni città d'arrivo tutto rosa crea un ambiente speciale, un ambiente unico Fossano ha qualche significato particolare per te? Ma io sono stato legato un paio d'anni proprio a Fossano, al Piemonte, a questa zona correvo per la Bon Giovanni, una squadra che ho corso per 3-4 anni quando ero under 23 che dopo mi ha lanciato al professionismo quindi diciamo una città che conosco abbastanza bene Ti chiedono ancora chi è il favorito della tappa e poi del Giro più in generale? Ma della tappa teoricamente i velocisti però io penso che Van Aert che ha dichiarato di voler provare a vincere addirittura la prima tappa mettere la prima maglia rosa è un arrivo adatto a un corridore con le sue caratteristiche quindi penso che anche per Fossano se dovesse vincere Van Aert sarebbe una grande cosa perché chiaramente è un grandissimo campione, un grande fenomeno e che possa esserlo il vincitore però non sarà facile, ci sono tante vaniabili